Tutte e due sono veramente, veramente ottime e le consiglio vivamente. Una cosa che non credevo, invece mi devo ricredere, è questa è il sottopelle. La parte sottopelle, che è in sintetico, è una microfibra che io ho impregnato di cera e grasso che anche Zara mette a disposizione, se non la trovate, che io non faccio nomi, ma le cercate su internet, visto che non mi sponsorizzano i negozi, ve le dovete cercare da soli.